Ciao, io sono Giada e oggi vi porto un nuovo unboxing. Ieri infatti mi sono arrivati alcuni pacchi, in particolare un pacco che mi è stato inviato e due pacchettini che contengono due libri che ho ordinato io. Dal momento che mi sono arrivati insieme ieri e oggi ho registrato anche un altro video ho pensato di approfittarne per girare anche questo unboxing e spacchettarli insieme. Avrò prima questi due pacchettini che contengono due libri che ho ordinato io qualche giorno fa su Amazon e che non vedevo l'ora di prendere, ora ve li mostro. Il primo è bellissimo, The Bear and the Nightingale di Catherine Arden e poi The Girl in the Tower, sempre di Catherine Arden. Si tratta dei primi due libri della trilogia dell'autrice che trovate anche in italiano con il titolo di L'Orso e Lusignolo, La Ragazza nella Torre e poi appunto c'è anche il terzo e ultimo libro, vi metto magari qui in alto le copertine in italiano. È una saga che io praticamente desidero leggere da tantissimo tempo le mie amiche me ne hanno parlato benissimo, ne ho sempre sentito parlare benissimo e mi ha sempre affascinata e incuriosita principalmente perché è appunto una saga fantasy basata sul folklore, in particolare sul folklore russo. Sapete se mi seguite quanto amo i fantasy incentrati sul folklore, sulla mitologia e in particolare i fantasy un po' di ispirazione fiabbesca in qualche modo. Desideravo appunto leggere questa saga da mesi e mesi ma stavo aspettando che arrivasse l'inverno, stavo aspettando che arrivasse dicembre perché desideravo leggere questa saga e questa storia con la giusta atmosfera. Sì, sono quel tipo di lettrice. Finalmente è giunto questo periodo per cui la prima cosa che ho fatto il primo dicembre è stata prendere questi due libri, ordinare questi due libri e appunto ora mi sono arrivati e li inizierò prestissimo. Si tratta appunto di una storia ambientata nel nord della Russia e dove si narrano ai bambini della famiglia leggende e storie di magia, folklore e del Winter King, ossia del re dell'inverno. Ma per la selvaggia e giovane vasia queste sono molto più che semplici storie. Questo perché lei può vedere gli spiriti che fanno da guardiani alla sua casa e anche sentire le forze della magia oscura che crescono nella foresta. Non vedo assolutamente l'ora di iniziarla, poi di prendere anche il terzo volume. Sono piuttosto certa che mi piacerà e poi vi aggiornerò insomma man mano. Ah, io ho ordinato queste edizioni qui inglesi in flessibile perché ero innamorata follemente di queste copertine. Cioè sono innamorata follemente di queste copertine. Sono davvero molto belle, delicate, adoro i disegni e lo stile. Tanto tanto contenta per questi due acquisti. Poi è praticamente arrivato di nuovo Babbo Natale Oscar Walt e ho ricevuto questo pacco enorme di nuovissime uscite. Sono emozionatissima, ora le scopriamo per bene tutte quante insieme. È un pochino pesante quindi ho abbassato la fotocamera per farvelo vedere. Come al solito abbiamo qui le carte che coprono tutto. E poi ci sono le meraviglie. Mi viene da piangere. Allora, i primi libri che vi mostro sono forse le edizioni che più attendevo uscissero qui da noi. E si tratta appunto delle nuovissime edizioni degli altri tre libri di Zafon. L'Oscar Walt ha praticamente ristampato i libri che fanno parte di una delle tetralogie più famose di questo scrittore in queste edizioni che sono mozzafiato, curatissime, assolutamente perfette. Sono davvero da sogno. Se mi seguite avrete già visto il primo libro della saga che è appunto L'Ombra del Vento in questa edizione perché mi era arrivato in passato. Ve l'ho già mostrato qui sul canale e ora si prova nel suo angolino dedicato a Zafon e presto anche questi lo raggiungeranno. Allora, in ordine abbiamo Il gioco dell'angelo Il prigioniero del cielo e Il labirinto degli spiriti. Se mi seguite probabilmente lo saprete già perché ve ne ho parlato in qualche altro video ma Zafon era uno dei miei autori preferiti. Io ho lessi per la prima volta L'Ombra del Vento quando ero una ragazzina credo fosse in primo o secondo superiore e L'Ombra del Vento è stato uno dei libri che mi hanno cambiato la vita e che hanno segnato la mia persona e la lettrice che sono. E da quando lessi appunto Quella lontana estate, L'Ombra del Vento mi innamorai follemente di questo autore, delle sue storie e lessi appunto anche tutti gli altri libri. Questa tetralogia, questa saga dell'autore è una delle mie preferite. Io non credo di poter esprimere a parole quanto, quanto sia felice di avere queste edizioni e quanto per me significhino perché appunto si tratta di una delle mie saghe preferite di lettrice e di uno dei miei autori preferiti. Io non smetterò mai di lodare l'Oscar Vault per aver creato queste edizioni perché rappresentano appieno in ogni singolo dettaglio l'essenza di questa saga l'essenza di questi libri e avere queste edizioni, leggere la saga rileggere nel mio caso la saga in queste edizioni penso sia una delle cose più belle in assoluto. Quindi io davvero sono troppo felice se ancora non riesco a crederci che esistano queste meraviglie e che io le ho qui con me, adesso. E parto a gioco ringraziare l'Oscar Vault per questo pacco, per queste edizioni e per le altre meraviglie che ora vi mostro. a gioco ringraziare l'Oscar Vault a gioco ringraziare l'Oscar Vault a gioco ringraziare l'Oscar Vault A seguire abbiamo un nuovo drago ed è il grande libro dei gialli di Natale, anche in questo caso penso una delle edizioni più belle E' una delle uscite anche in questo caso che più attendevo perché si tratta di classici e si tratta di classici di Natale, riuniti in questa meraviglia che brilla di luce Si tratta della più completa raccolta di gialli natalizi, 60 racconti pieni di mistero, ingegno, orrore e divertimento Dalla penna di Agatha Christie, scrittrice che io amo con tutto il mio cuore, Isaac Kasimov, Ellery Quinn, Arthur Conan Doyle, anche qui autore che adoro Eddie McBain, Stevenson e tanti altri Insomma un libro è un drago perfetto per il Natale, per questo periodo e perfetto appunto anche come idea regalo in realtà Se avete qualcuno che ama il Natale e ama leggere Io sono contentissima e sicuramente per questo Natale mi immergerò nei racconti contenuti in questo libro Così da viverne appieno l'atmosfera A seguire altra meraviglia del mio cuore, ossia la vita invisibile di Eddie Larue di V.E. Schwab Io sono qui incantata perché l'edizione e la copertina è bellissima e le pagine sono dorate e brillano E' come se fossero pagine di stelle, il che è perfetto per la storia, è un'edizione meravigliosa La vita invisibile di Eddie Larue è il nuovissimo libro della Schwab che io ho letto, ho già letto e amato E di cui vi ho già parlato appunto qui sul canale nel mio ultimo video letture, trovate lì la mia recensione Un libro che ho amato molto e che mi ha tanto emozionata, vi lascio il link sulle schede giù nella info box Se appunto volete conoscere i miei pensieri riguardo questa storia E' un libro davvero meraviglioso e un fantasy incentrato appunto su questa ragazza Eddie Che nel 1700 per scappare a una vita che non desidera, per ottenere la libertà che ha sempre voluto Si ritrova a fare un patto con l'oscurità Questo patto le permetterà di essere libera Ma allo stesso tempo la porterà ad essere sempre sempre dimenticata Per cui Eddie sarà libera e sarà immortale ma non sarà mai ricordata da nessuno E noi seguiremo Eddie e la sua storia attraverso i secoli E infine abbiamo tre libri, i tre libri che fanno parte della saga di The Gentleman Bastard Sequence Ossia gli inganni di Locke Lamora, i pirati dell'oceano rosso e la repubblica dei ladri Copertine flessibili e edizioni altrettanto splendide Si tratta di una saga fantasy estremamente acclamata che io non avevo ancora letto e che sono curiosa di scoprire Nella misteriosa città di Camor, un orfano a vita dura e spesso breve Ma il giovane Locke Lamora riesce a iludere la morte e a non farsi catturare come schiavo Fino a diventare un furfante provetto sotto la tutela del forgialadri, un talentuoso artista della truffa A capo della banda di fratelli dalle ditalieste noti come bastardi galantuomini Locke diventa presto celebre e si fa beffe persino del più temuto re della malavita Ma tra le ombre si annida qualcuno di ancora più ambizioso e micidiale Di fronte a un sanguinoso colpo di stato che minaccia di distruggere qualunque persona o cosa che abbia senso nella sua esistenza Locke giura di sconfiggere il nemico al suo stesso gioco crudele Costi quel che costi L'unboxing termina qui, io ringrazio ancora di cuore l'Oscar Vault per questo meraviglioso pacco E queste splendide nuove uscite Vi ricordo che giù nella infobox trovate tutte le informazioni per quanto riguarda i libri che vi ho mostrato in questo video E trovate anche i miei link di affiliazione, codici sconto e i miei vari social network Vi ricordo di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti E attivare la campanella in modo da essere sempre aggiornati quando posto un nuovo video E fatemi sapere con un commento se il video vi è piaciuto Se tra i libri che vi ho mostrato oggi c'è qualcosa che avete letto anche voi O qualcosa di cui magari attendevate l'uscita e desiderate leggere Io vi ringrazio tantissimo per essere stati anche oggi in mia compagnia Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video Ciao!